e salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo su fortnite per affrontare la nuovissima sfida di aquaman la seconda sfida della seconda settimana quindi andiamo a vedere che sfida è usa una canna da pesca per cavalcare le onde dietro uno squalo bottino a sabbie sudate quindi andiamo andiamo a cavalcare uno squalo a sabbie sudate allora ho provato a fare la missione su questa squadra però lo squalo non l'ho trovato quindi non so se tipo non l'ho trovato io e basta oppure in questa squadra non ci sono gli squali non ne sono sicuro comunque non vorrei dirvi una cavolata ora sto provando in singolo quindi andiamo in singolo e vediamo se riusciamo a fare la missione atterriamo direttamente la almeno troviamo la canna da pesca e facciamo assoluta la missione eccolo lo vedo qua sotto ora una canna da pesca vicino allo squalo non la vedo quindi dovremmo cercare una canna da pesca e tutto ci fa un pochino più complicato perché comunque dobbiamo anche fightare tra l'altro non ho nemmeno materiale né niente dov'ive una cosa sta pescando oddio oh ho Allora, sono riuscito a trovare la canna da pesca Lo squalo è qua Oddio Madonna, è partito È partito Oh mamma, sono sott'acqua Cosa sta succedendo? È partito, è partito Oddio Mi stanno sparando Mi hanno ucciso Comunque, questa era la missione Vi dico la verità Non è facilissima da fare Perché comunque dovete farla in singolo Quindi questa è la missione Non è molto facile da fare Perché comunque va fatta in singolo Perché a quanto ho visto io A risa squadra lo squalo non c'era Quindi non sarà semplicissimo Però non è proprio complicata Dovete giusto trovare la canna da pesca E poi lo squalo è abbastanza facile da trovare lì Le la tirate in pratica più vicino possibile E lui in realtà dovrebbe abboccare molto semplicemente Come avete visto O come avete visto prima Quindi andiamo a vedere Ed eccola qui La ricompensa Tre dente Che bellino come spray E quindi niente Spero che il video vi sia piaciuto Non è troppo difficile da fare come missione E l'unica cosa è che non va fatta in risa squadre Almeno potrovate in risa squadre Ma comunque io lo squalo non l'ho trovato Quindi vi consiglio di fare in singolo O comunque a squadre Quando avete almeno qualche compagno Che vi può dare una mano E' facile prenderlo All'amo Basta tirare Cioè tirargli abbastanza vicino La lenza E niente Il video si conclui di qui Spero che vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E commentate sotto Se volete Continui la serie Di questi video Di come completare le sfide di Aquaman E niente Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao